Ragazzi buona serata a tutti, buona serata a tutti, è tornato il campionato, è tornata la Serie A, Serie A 2024-2025 che parte, partiamo ovviamente e parliamo ovviamente di due delle squadre che dovranno lottarsi il titolo con le due milanesi che partono con 2-2-2, con 2-2-2-2-2, due palazzi per 2-2, il Milan era sotto di due gol è riuscito a pareggiarla, ho visto il Milan, l'Inter, l'ho visto solo parte del primo tempo quindi non sto qua a giudicare l'Inter, anche se qualcosa difensivamente andrebbe registrata pure lì io ho visto il Milan, il Milan devo dire che è una squadra che, è una squadra, attenzione allora prima di tutto, prima cosa da fare, mettete mi piace al video per supportare tutti i miei canali mi raccomando mettete mi piace al video, prima cosa da fare mettete mi piace al video, punto perché torna al campionato, torna all'entusiasmo, dopo tre anni di merda, torna all'entusiasmo e analizzeremo le partite anche delle altre squadre con entusiasmo, punto detto questo, ma com'è, scusate ragazzi, scusate, no no, ma io ero rimasto che il Milan era campione d'Europa perché aveva battuto il Manchester City, il Real Madrid e il Barcellona mentre la Juventus aveva perso contro Norimberga, poi per carità partiremmo magari anche contro il Como ma è per carità, però noi abbiamo perso contro Norimberga, abbiamo pareggiato contro il Brest insomma, partite del cazzo e quindi sulla carta la Juventus dovrebbe lottare per salvarsi mentre il Milan dovrebbe lottare per vincere la Champions League questo è il dato di fatto, quindi io sono stato un po' stupito che il Milan sia andato sotto l'Italia di due gol e abbia pareggiato la partita poi, perché alla fine poi l'ha pareggiata sono un po' stupito, ecco, tutto lì, perché alla fine io, a parte gli scherzi ragazzi allora, chi crede che la Juventus contro il Como passeggerà, per me sbaglia nel senso che poi magari potrà accadere, ma non dobbiamo partire già con questo presupposto, con questa arroganza noi siamo partiti con un nuovo progetto, con una nuova filosofia che si vista solo una volta con Conte, ovviamente meccanismi diversi, no, con Conte, scusate, con Lippi, meccanismi diversi per il resto abbiamo visto, appunto, con Conte, Allegri, a parte il primo anno di Conte il resto era più un calcio un po' più intenso con Conte e speculativo con Allegri e individuale con Allegri, un calcio più funzionale con i due allenatori e con Motta è un calcio più relazionale l'altro era più un calcio, un mix tra calcio posizionale e calcio funzionale allora, contro il Como sarà, non dico difficilissimo però, essendo che è una neopromossa, ok? con un allenatore che c'era già, perché alla fine Fabricas non aveva il patentino ma allenava lui quindi hanno già comunque un assetto tattico l'allenatore stesso, che arrivano dalla B e vorranno fare subito bene all'inizio perché queste squadre qua sono insidiose paradossalmente è più, non semplice però è meno rischioso prendersi un Inter alla prima giornata che un Como quindi io starei calmo, proprio perché a parte che adesso, vabbè, il Barcelona l'ha ribaltata ma anche il Barcelona sta perdendo col Varenza vabbè, il Varenza è comunque una squadra, insomma, conosciuta in Spagna però, guardando un attimo il campionato italiano avete visto che l'Inter va a pareggiare a Genova, ok? e il Milan pareggia in casa col Torino quindi non è scontato niente scontato è solo una cosa, sapete quale non è scontato niente nel calcio chi pensa che basta essere più forti e andare in campo perché si chiama Como e gli diamo 5 palloni ho capito un cazzo perché qua veramente sembra che allora nel periodo di Allegri tanti qua nel periodo di Allegri hanno detto puttanate punto mi pare che qua veramente siamo in pochi ad aver mantenuto una coerenza sul post Allegri perché avevamo detto ci vuole tempo pazienza ci sarà da criticare dovessimo non vincere delle partite andremo ad analizzare il modo con il quale non si vincono delle partite o con il quale si vincono delle partite si analizzerà si criticherà si loggerà ma qua sembra veramente che avete tutto il pepe al culo perché purtroppo siamo una tifoseria del cazzo questo purtroppo è vero essendo tanti poi qualcuno però al di là di questo ragazzi ovvio che col Como se è la Juventus devi andare in campo per vincere cioè non è che dobbiamo andare in campo per pareggiare poi bisogna vedere la partita come va come non va analizzarla ed è giusto magari essere critici nel caso in cui non dovessimo vincerla assolutamente poi dovremo vedere appunto come nel caso non si vincerà ma non possiamo mettere già le mani avanti col fatto che qua sembra che con Motta non si farà un cazzo Giuntoli sbaglierà tutto fallirà alla Juventus insieme a Motta falliranno tutti siamo tutti fottuti è così ragazzi non si crescerà mai io non so arriviamo a tre anni veramente orrendi a livello di entusiasmo dovremmo essere qua a non vedere l'ora di vedere la Juventus ad avere un entusiasmo allucinante con la critica giusta ma non con l'esasperazione e il nervosismo e l'impazienza che vedo che vedo non che vedo che vedo invece qua sembra veramente che siamo tornati cazzo siamo meno critiche quando c'è Allegri non so vabbè al di là di questo allora allora il Milan di Fonseca calcolando lasciando stare un attimo l'Inter che comunque è la prima partita come se fosse una partita di preparazione anche questa ok contro squadre però che magari sono già più in ritmo di te perché magari tu devi fare tre competizioni hai una preparazione che magari all'inizio ti fa non partire così forte rispetto magari a una squadra come il Genoa o a una squadra come il Torino quindi ci può stare che partano così adesso non è qua non bisogna essere qua a dire cazzo possiamo già andare a più due lunedì già iniziamo a fare i calcoli che a me i calcoli i ragazzi fanno andare in ospedale quindi lasciamo stare i calcoli per favore pensiamo partita per partita noi punto perché l'Inter rimane a favorita poi ci sono tutte le altre chi prima chi dopo la possiamo discutere ma poi ci sono tutte le altre l'Inter rimane a favorita con dei difetti con delle cose che a me non è che mi piacciono tanto non è che comunque discorso che comunque non mi pare una squadra longeva una squadra un instant team e l'altra cosa gli juventini che iniziano già a fare polemica io non ho visto ripeto l'Inter ho visto il gol convalidato all'Inter del 2-1 ok di Turam per carità anche a me sembra fuori gioco inizialmente possiamo discutere sul fatto che ci siano dei margini di errore del VAR l'han detto anche loro appena messo quindi possiamo discutere là nel caso ci potrebbe essere un errore quello che vogliamo perché c'è già stato in passato ma iniziai già a parlare di complotti di VAR pro Inter se fosse stato così non avrebbero dato e non ho visto rigore non avrebbero dato rigore al 93esimo al Genoa che a livello di cronologia è più importante quello quindi noi iniziamo a parlare di arbitri che veramente poi dovessimo avere un favore noi contro il Come dovessimo vincere la partita con quel favore là e ci dovesse rompere le balle dovete starvene zitti voi giuventini che adesso fanno polemica su sto cazzo di VAR punto quindi l'Inter non l'ho vista e comunque è appena iniziata la stagione stiamo attenti io poi su Simone Inzaghi sapete bene che per me è sopravvalutato quindi l'unico difetto nonostante abbia vinto il squadetto l'anno scorso ma l'unico difetto dell'Inter potrebbe essere proprio l'anatore perché comunque in tre avrebbe dovuto vincere detto di fila quella squadra che aveva perché dopo Conte comunque aveva sempre la squadra più forte ha avuto sempre la squadra più forte più forte di Simone Inzaghi quindi va bene ma comunque al dia di questo tornando al Milan io al Milan l'ho visto molto molto sulle gambe e credo che sia dovuto al periodo l'ho visto poco aggressivo l'ho visto molto confusionario sul costruire sullo sviluppare l'azione una squadra che è andata molto sui cross al di là del finale ma anche prima una squadra che faceva girare palla molto lentamente e difensivamente ha lasciato qualche dubbio ecco perché ci sta a difendere alti però ripeto come dicevo per italiano bisogna saperlo fare cioè nel senso che devi lavorarci e probabilmente forse è che ci lavorerà per me non è questo animatore malvagio che molti pensano sicuramente ha sui difetti se non sarebbe avrebbe vinto molto questo sicuramente o comunque avrebbe avuto un'altra carriera però questo è quindi qualche difetto del Milan si è visto quello che magari deve partire un milanista deve guardare la tenacia degli ultimi 15 minuti però non può bastare è come quando parlavo io della Juve negli anni passati la tenacia il fatto di voler ribaltare o pareggiare la partita non può bastare perché ti può andare bene una volta due volte ma tu devi partire bene non puoi cercare di finire sempre per salvare le cazzate che hai fatto prima quindi io credo che il Milan Fonseca debba lavorare su questo debba lavorare anche sulla testa i giocatori perché comunque ha diversi giocatori che dovranno integrarsi nella squadra anche se comunque oggi di fatto tra i titolari mi pare ci fossero quelli dell'anno scorso Morata ha fatto gol il gol che ha riaperto la partita e poi anche il movimento che poi ha fatto con Okafor il movimento di Morata a tagliare il primo pallo e il primo pallo è un movimento da prima punta che poi di fatto ha consentito Okafor di essere libero e Morata io ripeto superato una certa età deve fare la prima punta vera e propria non più il Falso 9 tant'è che nella Spagna secondo me Fatalità ha fatto molto meglio da Falso 9 nell'altra nell'ultimo europeo mi pare o mondiale europeo non mi ricordo aveva fatto tre gol in questo europeo gli hanno chiesto di fare ancora il Falso 9 ma non ha più secondo me qui i ritmi quella velocità di pensiero quella velocità tecnica che aveva una volta adesso deve essere sfruttato per attaccare la profondità per attaccare l'area di rigore per fare la punta tecnica quello deve fare Morata ha fatto un gol da prima punta ha fatto un movimento da prima punta sul gol di Okafor e qualche milanista si è incazzato perché non l'ha messo prima ma probabilmente essendo uno degli ultimi che è arrivato si è aggregato alla squadra dopo l'europeo probabilmente non ha ancora il ritmo partita per un'ora quantomeno e quindi ha deciso di metterlo dopo e alla fine comunque ripeto due pareggi che sicuramente sono due punti persi per entrambi i milanesi c'è una vita davanti ancora da giocare mancano ancora 37 partite per loro quindi è la prima partita ragazzi l'importante è che sia partito sia ripartito il campionato ci divertiremo vedremo come andrà sta stagione speriamo appunto che alla faccia dei guffi che abbiamo all'interno più che all'esterno Motta faccia bene a livello di prestazioni che poi portino porti più che altro spero che appunto porti i risultati tramite le prestazioni tramite il suo equilibrio non l'equilibrio dell'altro il suo equilibrio che ne ha parlato e niente questo è il quanto per quanto riguarda appunto il Milan che ho visto l'ho visto di più è tanta confusione oggi tanta confusione e questo accade quando magari all'inizio della stagione è diciamo giustificabile perché può essere definito diciamo definita una confusione da preparazione cioè sei stanco hai troppo diciamo le gambe un po' imballate perché è la prima partita ufficiale comunque e quant'altro e quindi ci sta no all'inizio parti così però dovessi essere a novembre dicembre in queste condizioni qua allora lì ti puoi preoccupare ma anche dovessi essere così fra un mese comunque stai fatto che il Milan ha battuto City Barcelona e la Madrid ha pareggiato col Torino quando vi dico che la preparazione estiva non serve un cazzo a livello di partite non serve effettivamente a niente a niente a zero zero ok detto questo ragazzi vi auguro buona notte a tutti sempre comunque fino alla fine forza Juventus e noi ovviamente ci vediamo domani per la vigilia che torniamo finalmente a fare il giorno prima non il giorno il giorno prima anche il giorno dopo la vigilia faremo forse le analisi tattiche le farò vedremo come farle perché non c'è più GTV quindi vedremo come farle per un attimo riguardarci un po' le partite prendere un po' di screenshot però forse lo farò in live l'analisi tattica dovessi farla però domani torneremo a fare il pre-partita il pre-partita dopo la conferenza stampa di Tiago Motta il nostro nuovo allenatore che parlerà alle ore 13 ci vediamo quindi domani e buona notte a tutti e fino alla fine sempre comunque forza Juventus e buon campionato a tutti